Lei ha letto questo libro la settimana scorsa? Sì, l'ho letto. E Maria? Lei non l'ha ancora letto. Stasera hai fatto i compiti? Sì, li ho fatti. E Pietro? Lui non li ha ancora fatti. Tu hai attraversato il fiume a nuoto la settimana scorsa? Sì, l'ho attraversato a nuoto. Ma Laura e Pietro? Loro ancora non l'hanno attraversato. Lei è andata a Londra ieri? Sì, ieri sono andato a Londra. E sua madre? Lei non è ancora andata a Londra. La settimana scorsa avete visto questo film? Sì, ho visto questo film la settimana scorsa. E i vostri bambini? Loro non l'hanno ancora visto. Stamattina tu hai parlato con il tuo capo? Sì, stamattina ho parlato con il mio capo. E il signor Bernie? Lui non ha ancora parlato con il capo. Mi sei messo il tuo palto un minuto fa? Sì, mi sono messo il mio palto un minuto fa. E Pietro? Pietro non si è ancora messo il suo. Hai preso la tua medicina stamattina? Sì, stamattina ho preso la mia medicina. E Maria? Lei non l'ha ancora presa.